di esercizi. Torniamo alla trave. Sì, Alice da Amato. L'ultima per la Brixia. Ribaltata senza, Anjambé sul posto. Brava. Oh, mi piace il ritmo con cui si muove sulla trave. Anjambé cambio. Anjambé cambio ad anello. Flick, core, boot. Bellissimo. Parte a terra. Nuovo questo collegamento. Mi piace. Mi piace anche, appunto, stavo dicendo prima, il ritmo. Non si ferma praticamente mai. Flick, salto. Bravissima. Vedete come si muove sempre. Falta avanti. Buono. Il bacino deve essere all'altezza delle... cioè il bacino deve rimanere sopra le ginocchia sugli arrivi. Altrimenti ci sono tutte le varie penalità in base a quanto si piegano le gambe e i glutei vanno vicino alla trave. Glutei bene sulle anche. e uscita. Rondata. Due e mezzo. Brava. Bravissima. C'è stato un bel upgrade sulle uscite anche alla trave, eh? Dalle fate. Perché tutte o D o E. Quindi tutte con il... lo 0-2 di a buono per l'uscita in D. O più perché ho visto...